Non dimenticherò mai la prima volta quando pattinavi verso la mia moto. In ricchezza e in povertà. Quando pensi di sapere... In salute e in malattia. Quale sarà il tuo destino? Se voglio sposarti dal profondo del mio cuore. Un chiodo ti si pianta nel cervello. È incastrato nella parte del lobo frontale sinistro. Rischia danni cerebrali permanenti. Fermi! Non ha l'assicurazione e spegnete la sala. Grazie, Arlene. Un chiodo nel lobo potrebbe effettivamente causarle gli attacchi di panico, imprevedibili momenti di ira. So i dotti! Ruin fia da putta! Signor Birdwell, sono una sua elettrice. L'ho vista in tv, è stato fantastico. Quell'idiota non può aiutarti, Alice. Come vai a Washington? Voglio aiutare le persone in gravi condizioni cliniche che non possono affrontare le spese mediche. Lo trovo incredibile. Ti è bastata una breve conversazione nel corridoio per arrivare al congresso. Questa donna ha inchiodato il mio cuore. Oh, no! No! Jack Gyllenhaal, Jessica Biel, Catherine Keeler, James Martin, Tracy Morgan e James Brolin. Insieme possiamo fare grandi cose. Sono convinta che ci ispiriamo a Vicente. America! James! Accidental Law. Dal 4 giugno al cinema.